Ciao, sono Mauro Malatini, sono un profumiere dell'anima, ovvero costruisco profumi partendo dalla specificità, dall'unicità della persona stessa. Ogni individuo porta in sé la propria fragranza, secondo me nascosta nell'anima, e il bello è proprio quello di tirare fuori dei profumi che siano unici, che siano delle creazioni non ripetibili appunto. Io naturalmente comincio con parlare con la persona, quindi chiedendo un po' alla persona chi è, dove sta andando, che cosa vuole dalla propria vita, e da lì poi cominciamo il percorso olfattivo che è proprio annusare delle essenze, spesso e volentieri fatto da occhi chiusi proprio perché comunque si mette in atto una deprivazione sensoriale per cui si agudizza il senso dell'olfatto e a quel punto si scelgono le proprie essenze. Con queste essenze io costruisco un profumo che poi viene approvato sulla pelle, perché ogni essenza, comunque ogni profumo, va ad interagire con l'odore della persona, deve andare ad esaltarlo e a sottolineare la bellezza di quella persona. E al momento in cui il profumo trova la sua forma, che coincide con quella della persona, a quel punto abbiamo creato un'opera unica che parla appunto della persona stessa. Quindi ecco, il mio compito è quello, quello di capire i messaggi che ogni persona porta in sé e quindi tradurli in note olfattive, in fraeranze, che poi possano accompagnare ogni giorno e dare ogni giorno la direzione della propria vita.